Bentornati su Nomamamazzo e bentornati nella rubrica Trailer Reaction. E' tantissimo che non faccio una Trailer Reaction, ma in questo caso era d'obbligo dato che stiamo parlando del trailer di Dampir. E' stato annunciato di recente che il famoso film di Dampir, che era stato annunciato a Lucca Comics & Games 2019, prima della pandemia, finalmente ha una data d'uscita e devo dire che sono stati perfetti nel trovare la data più adatta per questo tipo di film. E uscirà il 28 ottobre 2022. E' una data adattissima sia perché il 28 ottobre è il primo giorno del Lucca Comics & Games, quindi io mi aspetto che ci sia una premiera Lucca. E' una mia aspettativa, potrebbe non esserci. O quantomeno mi aspetto che ci saranno delle sale cinematografiche a Lucca, dove noi nerd potremmo organizzarci per vederlo tutti insieme. E questa è già una cosa molto positiva. Ma soprattutto è molto, molto vicino ad Halloween come data. Di conseguenza anche le persone che magari non sono molto dentro nel mondo Bonelli, possono comunque andare a vedere un film di vampiri nei giorni vicini ad Halloween. Questo è l'ideale. Ve lo dico già da subito, io sono un lettore di D.Landog, non conosco Dampir. Ho letto Dampir quando ha partecipato con il team up insieme a D.Landog, ho letto qualche storia perché mi hanno regalato una specie di best of, non so come definirlo, e ho tra le mani il numero uno trovato in una cantina. Fatemi sapere se volete che lo legga e che faccia una recensione. Ma adesso, bando alle ciance, guardiamo il trailer. Via. Se un maestro delle notte si accoppia con una donna non vampiro, lei darà alla luce un Dampir. Ok, quindi mettono in chiaro le regole di questo mondo vampiresco. Dicono dove sono, metodo... Metodo Avengers con la scritta bella grande. Chi può aver fatto tutto questo? È stato il diavolo! Dovete chiamare il Dampir! Ho sempre avuto incubi, ma ora sembrano molto più reali. Come ricordi che provano a riemergere. Del sangue nel trailer così, anche se è sangue natale, però insomma... E ora Gorka sa che esisti e farà di tutto per eliminarti. Portami da Gorka. Ma sapete che è fatto d'addio il trailer? Come ci si sente a sapere che la vita ti sta abbandonando? Confidemi. Fantastico. Ho solo un appunto sulla grafica e poi vi dico qual è. Ottimo. Sarà sia una storia sul Dampir, ma anche sulla ragazza bionda di cui scusate non ricordo il nome, ma so che è una dei tre protagonisti che tra l'altro ci sono nel film. Bello, 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 bello. Tanta, 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 tanta roba. Allora. Cerco di dire due cose cercando di non contraddirmi. Il trailer sembra... È brutto da dire. Lo so che è una frase brutta da dire, ma ormai siamo abituati a sentirla per fare i complimenti su un'opera nostrana. Il trailer non sembra italiano, come direbbe Stanis la Rochelle. Il trailer è fatto d'addio, è molto bello, ti dà proprio il sapore di un film internazionale e infatti non è stato fatto totalmente in Italia. C'è una collaborazione. Gli attori stessi non sono italiani e devo dire che ovviamente non penso lo abbiano fatto unicamente per questo motivo, ma di conseguenza, non essendo italiani, sono stati doppiati. Questo significa che avremo un film con i nostri amati doppiatori. Il film sarà in doppiaggese e io sono entusiasta. avrà ancora di più un sapore internazionale vedere un film di questo tipo. Ho già sentito e riconosciuto la voce di Pino Insegno, sono molto molto felice. La voce di Dampir, del Dampir, non so come si chiama il doppiatore, ma è lo stesso che fa Soldatino, Soldier Boy in The Boys, secondo me azzeccatissimo perché è abbastanza giovane, ma d'azione come voce, va benissimo così. L'unico, l'unicissimo appunto appunto sulla grafica, la grafica mi ricorda troppo la grafica del Dilan Dog del 2010. Il Dilan Dog che tutti vogliamo dimenticare e soprattutto il Dilan Dog che non è collegato a questo universo cinematografico che vogliono lanciare. Ecco, forse una cosa che Sergio Bonelli, editori, a differenza delle altre case editrici statunitensi, non fa è che non cambia il logo. Tiene il logo del fumetto. Con Dilan Dog ha tenuto il logo del fumetto, lo ha fatto in 3D con una sfumatura ed era rosso, tra l'altro poteva essere giallo, ma era rosso. Con Dampir ha fatto la stessa cosa. Lo ha messo in 3D e le ha dato una sfumatura rossa, però qua ha già più senso anche se non altro per il discorso del sangue. Però ecco, ha un po' il sapore di quel brutto film che tutti noi vogliamo dimenticare. vedremo, vedremo se magari in futuro vorranno dare una grafica, un font personalizzato ai prodotti cinematografici che si differenzia da quello fumettistico, ma non credo, perché vogliono fare di tutto per far capire che sono prodotti tratti dai fumetti alle persone che i fumetti li leggono. Chi non li legge, chi se ne frega, ma potrebbe scoprirli più facilmente in edicola se memorizza il logo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo trailer, io sono molto contento, spero di vederlo insieme a qualcuno di voi a Lucca. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi ringrazio per avervi seguito fino alla fine di questo video e vi dico arrivederci al prossimo. Grazie a tutti.